Una mostra che racconta l'attività che Star Tè ha svolto in tutto il mondo. In un momento in cui l'arte spesso è finzione, grazie ai lavori di Angei, Baricchi, Bianconi, Bellani, Carmi, Caselli, Casentini, Frangis, Canavino, Tomaino e Vaccarone, il pubblico potrà ammirare 38 opere, molte già esposte in musei e contesti internazionali pubblici e privati, in cui la pittura non mente mai. È una mostra che racconta Star Tè, la sua attività, sia in campo nazionale che in quello più internazionale, attraverso le opere degli artisti con cui ha collaborato. È quindi una narrazione, una narrazione che passa attraverso le opere, ma anche le testimonianze di tanti cataloghi che sono qui visibili nella sede della nostra associazione. Da Strasburgo a New York, da Los Angeles al Camec della Spezia, sono solo alcuni dei luoghi espositivi che hanno visto protagonisti Star Tè e gli artisti che vi hanno esposto. C'è un'occasione in cui Star Tè si racconta, si racconta agli spezzini che spesso appunto non hanno potuto avere modo di godere di queste esposizioni proprio perché non erano qui in città, erano all'estero. Tra gli artisti anche Francesco Vaccarone con alcune delle sue opere che ripercorrono il suo segno pittorico dagli anni Sessanta ad oggi. Questi 11 per 11 è una storia breve, sintetica, ma vera, efficace, di 11 anni di lavoro in cui Star Tè ha avuto collegamenti, rapporti con moltissimi artisti italiani, europei, ma soprattutto ha avuto una funzione di propulsione della vita culturale del territorio perché molti artisti di Spezia, Tomaino, io, Bellani, che ci ha portato tra l'altro l'anno scorso alla Biennale di Venezia nel ospite del Padiglione dei Cinesi, è la testimonianza di una dimensione attiva nella nostra città che non si era mai manifestata in questo modo. La ricognizione dell'arte del Novecento nel territorio spezzino rimane uno degli obiettivi di Star Tè. All'interno di questo progetto ha avuto successo l'archivio Casedi, che mi onoro di presiedere, che è nato ormai cinque anni fa e che ha l'obiettivo appunto di analizzare il percorso di un maestro come Giuseppe Casedi e di verificare l'autenticità delle opere stesse. Grazie. Grazie.